Unite nel sociale, a Pecchio si prepara ad ospitare due giornate ricche di sport, divertimento e solidarietà. Sì, esatto. Avremo il 27 e il 28 un weekend veramente ricco di eventi. Il 27, che è sabato mattina, ci sarà un convegno dedito proprio alla problematica del bullismo. Ci saranno dei campioni olimpionici e ci parleranno appunto di questa problematica, di questa problematica veramente molto, molto in voga purtroppo tra gli adolescenti e i ragazzini ancor più piccoli. Domenica invece è la partita del cuore. Sì, esatto. Domenica è la partita del cuore. Ci sarà questa partita scopo benefico perché la NICO, appunto, questi eventi vengono fatti proprio per poter devolvere in beneficenza tutto ciò che si riesce a raccimolare con questi eventi. E sarà a favore di due bambini che soffrono di una malattia genetica rara. Il sabato sera ci sarà una serata di gala per raccolta fondi. Ci saranno presenti i campioni olimpionici, il presidente della NICO Italo La Penna e ci saranno degli ospiti diciamo molto conosciuti ai più, tra i quali ci sarà anche Tina Cipollari. Altri non ne voglio svelare. Sarà una sorpresa. A che ora si terrà la partita e chi scenderà in campo, Daniele? Bene, allora la partita chiaramente del 28 maggio inizierà alle ore 15, quindi invito tutti a partecipare a questo evento. Avremo le due squadre, una quella della NICO, la nazionale italiana campioni olimpionici. In questa squadra ci saranno tanti nomi famosi, ex calciatori, ex atleti. Dall'altra parte una selezione delle vecchie glorie della veridissima, che hanno abbracciato in pieno questo progetto e quindi si rimetteranno in campo con la loro casacca del cuore per sfidare questi campioni. Vi aspettiamo quindi il 28 maggio allo stadio di Apecchio. Partecipate perché è un evento che andrà tutto in beneficenza e quindi saremmo contenti fosse lì con noi.